Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo unissimo video Io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un video abbastanza veloce Perché sono uscite finalmente le sfide in collaborazione con Discord Prima di iniziare mi raccomando subito un bel like Se non sei ancora iscritto iscriviti ovviamente con la campanellina Ed eccoli qua ragazzi 3 ricompense gratis, una schermata di caricamento di una bananita bellissima Un banner con l'albero della realtà e una copertura armi La ricompensa ovviamente più interessante, versione cromo Che è veramente molto molto bella Come si completano queste sfide? Innanzitutto per festeggiare arrivi Fortnite eccetera E ora è disponibile la Discord Quest Paradiso Completa 6 diversi compiti da un server Discord ufficiale in Fortnite Per ottenere 3 ricompense in gioco Le sfide ovviamente saranno attive fino da oggi Fino al 2 ottobre 2022 alle ore, mezzanotte praticamente ore italiane E i Discord ovviamente ufficiali sono questi che vedete esattamente con il link Che ovviamente voi non è che andate in quello arabo Andate chiaramente in quello italiano Quindi schiacciate il server italiano e ovviamente dovete chiaramente avere Discord prima Quindi una volta installato Discord Cliccate il link e guardate dove vi porta Nel server Discord ufficiale ovviamente di Fortnite Italia Voi siete in questa schermata Dovete scendere come possiamo vedere in questa In queste barre qua Dove c'è scritto Paradiso Quest Cliccate Paradiso Quest e vi appare questa immagine come possiamo vedere Voi cliccate poi inizia Vi darà una pagina dove dovrete collegare il vostro account Discord Al vostro account Epic Games Mi raccomando collegateli in maniera giusta Se no magari collegate sbagliando e vi finiscono in altri account le ricompense Quindi fate mi raccomando attenzione Una volta fatto questo ragazzi avrete collegato l'account e basterà semplicemente fare le sfide Quindi ci appare il tuo account Epic Games è stato collegato Fai il clic sul pulsante ottieni il tuo primo compito Schiacciamo ottieni il tuo primo compito E guardate qua ci sta caricando la prima questa La prima sfida che come possiamo vedere se schiacciamo compito attuale Vediamo un attimo cosa ci dice Ah ecco ce l'abbiamo qui con l'immagine Assisti compagni in 10 eliminazioni Fate le 10 eliminazioni Una volta fatte potrete richiedere un altro compito Quindi ovviamente dovete aspettare che si aggiorni il sito, il Discord insomma Una volta fatto questo tenete il secondo incarico Poi una volta fatto il secondo incarico il terzo E così via fino a completare ben se incarichi Con se incarichi ovviamente otterrete tutte e quante ricompense Se questo video ti è stato utile mi raccomando lascia un bel like Se mi ricordo vi lascio il link comunque del Discord italiano in alto nei commenti Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate Like iscrizione e ci vediamo domani alle ore 13 Di cerco soli Bella Grazie a tutti.